Banca del Tempo Sociale, perché questa sera c'è una finalità nobile, perché tutti noi daremo il contributo per un'iniziativa molto importante. Di che cosa si tratta? Allora, questo è il progetto che io vi avevo già annunciato il 5 agosto del 2022, quindi la Banca del Tempo Sociale. Ora, questi fondi serviranno per poter sopperire alle spese che per fortuna non saranno così esose, per poter iscrivere un volontario all'associazione Anfas e questo volontario dovrà donare il suo tempo. Noi non chiediamo quanto tempo lui possa o voglia donare, ma che sia un amico per questi ragazzi, quindi ci sarà un amico per un ragazzo autistico, un qualcuno che possa di sua volontà venire nelle nostre case e magari citofonare, invitare il nostro ragazzo a mangiare una pizza o invitarlo a casa o magari andare a comprare dell'abbigliamento insieme senza l'ombra dei genitori. Quindi noi vogliamo regalare a questi ragazzi dei momenti di vita quotidiana semplici.